lo sapete che c'è gente che viene in chiesa e poi quando esce fuori frega gli altri sparla male tratta male gli operai lo sapete che totorina rimproverava tommaso buscetta al processo perché non era credente c'è tanta gente che ha una relazione ipocrita con dio solo con le labbra tu dio non lo conosci finché non provi a fare sul serio con lui voi dite di credere in dio ma non sapete se lo conoscete veramente perché forse non avete mai provato a rischiare con lui fino a quando tu non ti giochi veramente rischiando veramente tu non sai se esiste dio o no io penso che la nostra chiesa sia piena di gente che in fondo non sa se dio esiste o no sa che gli piacciono i valori cristiani che gli piace un po il cristianesimo è tutto lì ma io con un amico avrò un rapporto serio quando mi gioco la vita per lui quando mi butto per lui il fidanzamento col tuo ragazzo con la tua ragazza diventerà seria quando uscirai dalla zona del sicuro del garantito quando sarà saprei capace entrare nella zona del rischio se un ragazzo si innamora di una ragazza gli chiede giocati tutto per me butta via tutto il resto per stare con me ma rischierò i miei amici di trovarmi in difficoltà lo so ma l'amore è questo e dio fa questo per con te ti propone di qualcosa che un innamorato ti proporreste perché dio ti ha dato tutto e allora ti chiede tutto un rapporto vero l'amore non è tenersi una parte è veramente amo la mia ragazza ma una parte me la tengo per me avere i tuoi spazi no l'amore è dare tutto e la stessa cosa è con dio che cosa devi fare veramente per trovare una vita più piena non ti accorgi spesso che hai una vita deludente perché forse ti appoggi su tanti idoli e l'opinione degli altri la mia bellezza la sicurezza economica la mia intelligenza e tutte queste cose non ti hanno dato la felicità se tu provassi a obbedire a dio a fare ciò che dio ti dice avresti una vita piena perché non provi una volta a fidarti di dio ma quando è l'ultima volta che ti sei fidato di dio io tante volte mi sono fidato di dio ma non è vero guarda la tua vita non hai la vita di uno che si appoggia in dio nice diceva dovrebbero avere un'altra faccia i cristiani se fosse vero ciò che dicono e lui vedeva i cristiani spenti vedeva i cristiani musoni seri tristi annoiati e non può essere vero quel vangelo che dicono ma certo che è vero il vangelo il problema che i cristiani non ci credono in quello che dicono la chiesa è piena di gente che non si fida di dio dio sì ma con calma per piacere senza troppo rischio vogliamo una vita comoda una vita borghese dio al massimo una ciliegina sulla torta ci mettiamo pure una preghierina e dicono io sono cristiano ma guarda la tua vita eh non sei capace veramente di una relazione autentica non sei capace di conquistare i cuori non vai oltre il formalismo non sei capace di di scelte veramente definitive radicali eh ho fatto tutte le cose che non ti costano eh forse può darsi che dio ti chieda qualcosa più delle briciole dio forse ti chiede proprio quello a cui più tu tieni eh di giocarti quello che ci tieni di più ma perché ma perché forse quella cosa lì sta diventando un idolo sta diventando una cosa che ti succhia la vita mentre dio ti darebbe la vita entriamo in relazione vera con dio non nominare il nome di dio in vano turco il battesimo hai ricevuto il nome di dio sei stato immerso nel nome di dio ecco molla quello che tieni di più per seguirmi ti dice dio con dio vale la pena di giocarti la vita finché non ti giochi la vita per dio dio non lo conosci non sai se c'è neanche chi dice che non c'è sa che non c'è perché non ha provato con dio bisogna buttarsi san francesco si è buttato con dio ha scelto tutto per dio ecco e come mai è stato perseguitato perché tutti i giovani di assisi volevano seguirlo ma era un mendicante andava con i lebrosi mangiava schifezze era ricco si è fatto povero ma perché i giovani la gente voleva seguirlo perché era bello perché era vero perché c'era l'amore in ciò che faceva perché voleva per la pena di seguirlo perché giocarti tutto per dio ti dà una vita più bella e come veramente scalare un'alta montagna una vita che un'avventura non è sempre la solita solfa il solito film che si ripete ma forse tu sei troppo pieno di te stesso ti credi veramente troppo capace e tu farai tante cose e vedrai le tue capacità le nasate arriveranno ma arriva prima a fondare la tua vita su ciò che veramente vale veramente solido ma chi ti crede di essere ma cosa abbiamo da perdere è proprio così vale così tanto la pena di difendere la nostra vita con le unghie con i denti hai veramente quella vita che tutti invidierebbero ma di cosa hai paura che dio ti prenda la vita ma dovresti avere paura che dio non te la prenda ecco molti di voi non si fideranno di dio molti di voi non crederanno quello che vi sto dicendo perché noi in fondo abbiamo paura di dio pensiamo che dio ci tolga qualcosa non pensiamo che lui possa essere la nostra felicità non ci crediamo che noi siamo fatti il no per dio che il nostro cuore è fatto per dio e invece dio dio ti ha dato tutto dio si dona tutto a te totalmente si è donato sulla croce ha perso tutto e allora ti chiede tutto colui che ti ha dato tutto ti chiede tutto questa è una relazione vera il signore cerca il tuo cuore prendi sul serio dio giocati tutto con lui prova ad obbedirgli prova a fare ciò che lui ti dice e allora uscirai dalle tue idolatrie